eccoci qua cari amici appassionati appassionati di auto vintage guardate un po renato marvin 345 cari amici e cari amiche diretta spettacolare da borgo barber day che salutiamo 2022 con le nostre carissime amiche denise e katia ecco e le salutiamo e le vedremo dopo al pin up e cosa ti regalo marvin ti regalo qualcosa di spettacolare mai visto sul tuo canale qualcosa di unico marvin di unico allacciate le cinture sul divano e godete insieme noi guarda marvin salutiamo il nostro carissimo ismaele e cosa ci regala qualcosa di spettacolare 1975 marvin guarda inchiniamoci le fiat di una volta 127 prima serie guarda marvin questa mancava sul tuo canale spettacolare marvin spettacolare te la ricordi con questo colore bellissimo è questo colore abbiamo anche i modellini marvin è di questo colore guarda qua la calandra al nido d'ape che sempre marvin la vera italia che lavorava te la ricordi la vera italia che lavorava senza tutti questi problemi guarda marvin guarda spettacolo spettacolo ringraziamo il nostro amico l'hai sempre avuta si da un po di anni veramente spettacolare veramente minchino la prima serie ti piaceva questo modello si è stata un'occasione che ho trovato hai trovato respira pieni polmoni marvin il profumo del vintage sono anni che respiro ricordatelo sempre mamma mia guarda gli interni marvin mi vengono i brividi credimi guarda qua bellissimi questi interni di questa colorazione mamma mia marvin quando vedo la ricinale mantenuta mai restaurata bravissimo bellissimo mamma mia marvin ci puoi far vedere il motore ecco qua renato qua anche sotto la pioggia noi siamo sempre siamo sempre attivi ma siete qua delle zone venite dal veneto venezia però ma mia marvin qua tutto a ricinale perfetta guarda marvin è tenuta veramente bene conservata fantastica marvin credimi non ho parole io l'amo questa vettura anch'io anch'io credimi marvin poi di questo colore guarda marvin il colore è favoloso il modellino caso 143 ma vedermela in diretta a gustarmela a saporarmela a gustarmela come dice il marvin la vera italia la vera italia qua siamo nel 1975 marvin gustatela bellissima puoi mettercela a moto un secondo ecco qua è bravissimo adesso andiamo a respirare non è profumo di di nafta è profumo di benzina marvin la diretta andiamo dietro il rumore è il suo eh ringraziamo di cuore Isabel il nostro amico Ismael Ismael mi sembra non Isabella eh Ismael Ismael e andiamo dietro grazie grazie accelera un attimo accelera eccelera che il marvin si ritira e si ritira e si ritira e si ritira e poi il polmone di grattacca il vero vinta è marvin il profumo di vintas grande marvin grande e poi grande marvin bellissima spettacolo e poi cosa dici e poi vi faccio un altro regalo facciamo un altro regalo facciamo un'altra sfumatura andiamo facciamo un attimo facciamo un tanto saluta e Renato annuncia la sorpresa abbiamo una grandissima sorpresa con il nostro carissimo Andrea che salutiamo e vuol farti il regalo per il tuo canale eh ok intanto 127 io saluto l'amico Demis che insomma è d'obbligo eh ragazzi ciao a tutti saluto Antonio, Max e tutti quanti è il regalone abbiamo fatto fra poco andiamo di questo eh Renato ciao a tutti intanto spettacolo viva il Barber Day ciao a tutti